L'obiettivo a ore 10 Procedi È un matrimonio Ci siamo quasi, amico Chissà Magari Un voyage Io già gliel'avevo detto di non andare lì Che era tutto seminato a mine E adesso E adesso è blocchiato sulla mina A presto A presto A presto A presto A presto A presto A presto